Una rapida occhiata ai principali siti nazionali, cominciamo da ansa.it, maturità, latino al liceo classico, matematica allo scientifico. Il ministro Valditara ha firmato il decreto per gli esami di Stato e poi Meloni, Vede, Nordio, giustizia, giusta è la priorità. Il ministro all'inaugurazione dell'anno giudiziario, prima delle riforme, ascolteremo le toghe ANM, ottimisti su dialogo costruttivo. E poi SkyTG24, scuola, stipendi differenziati ai prof, Valditara riapre il dibattito, Landini, no, gabbie salariali. La proposta del ministro dell'istruzione Valditara riguardo al trattamento economico differenziato per i professori al nord e al sud per la CGL è una follia. E poi Corriere della Sera, focus sulla guerra in Ucraina, Kiev accusa nei raid russi usati missili personici Kinzal, almeno 11 morti. Il presidente lancia un appello all'occidente, servono anche jet dagli USA, rassicurazione, anche su Berlino arrivano i Leopard. E poi Repubblica, vi lasciamo con questa notizia, spazio un asteroide stanotte lambirà la Terra, ma per la NASA il pianeta non corre rischi. Antonia, queste sono le principali notizie dall'Italia e dal mondo, ti restituisco la linea.